ciao a tutti io sarò il classico matto quello ma che vi dissi un po di tempo fa scommettiamo che vanna ci va in politica e indovinate un po se non avete sentito nel pd a dir poco scandaloso a dir poco orribile e a dir poco una presa in giro e a dir poco non si può dire no non si può dire perché se parli in maniera un po veritiera di quello che vedi quello che succede di quello che dimostra quello che sta succedendo ti bloccano ti bloccano google fa così ti bloccano se dico qualcosa di che non disconveniente ti blocca invece può mettere che ne so quando aprite google notizie con titoli assurdi spaventosi che ti mettono l'ansia e quelli come che si chiamano titoli vabbè non mi ricordo sensazionalistici i titoli sensazione di sì però google lo fa perché soldini viva la pubblicità vive soldi vive click però me blocca io se dico qualcosa di sbaglio però se lo dice lui invece lui lo può fare anzi devo essere io dire no vedi che sto titolo così non va bene c'è google ma che cazzo stai facendo vabbè comunque il grande vannacci grande vannacci alla fine è riuscito ad entrare in politica con un libro ma del poco scandaloso per come la vedo io niente abbiamo un altro a cui dare un sacco di soldi al mese che non si sa perché sta lì e va bene ma il pd voglio dire è come quando vai al mare ti metti a raccogliere la robaccia no l'immondizia che trovi ecco il pd diciamo che è quel macchinario per ripulisce le spiagge gesù o gesù va bene un altrimenti ma non ve la dico non ve la dico perché non ve la dico però a chi ha i figli che al momento hanno 14 15 anni attenzione nei prossimi anni a quello che può può succedere ai vostri figli ma cosa può succedere nei prossimi anni tempo a tempo perché tanto io faccio parte di quelli cui si dice complottare i complottisti vive complottisti